ciao a tutti nel video di oggi fedez in versione di casalenguo disperato vestito con l'accapatoio di chiara ci consiglia un libro da leggere ci vediamo domani con il video completo alle 13 e 30 buona visione domenica si ho un accapatoio leopardato ok me ne sbatto non è mio di mia moglie ma lo metto anche io ok ok volevo consigliarvi questo libro è molto bello vorrei aggiungere qualcos'altro ma molto bello siete se siete in un periodo un po dove avete un po di ansietta attacchi di panico siete un po in crisi mista